A Bari, due uomini in manette, l'accusa violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne barese di 16 anni. Nella mattinata, i carabinieri della stazione di Bari, Scalo della Compagnia di Baricentro, in collaborazione con l'aliquota della Polizia Municipale presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Bari, dottor Sergio Di Paula, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Simona Filoni, nei confronti del 69enne barese commerciante Francesco Cassano e del 45enne contadino di Trigiano Michele Armenise. Accertamenti sono in corso da parte della Procura di Bari su presunti abusi sessuali commessi su altri tre minorenni. Dagli atti di indagine notificati all'alba, i due indagati ai quali sono stati concessi gli arresti domiciliari, sarebbe emerso infatti che altri ragazzini avrebbero subito le attenzioni dei due. In particolare il pianziano dei presunti stupratori avrebbe attirato i minorenni a casa sua per fargli vedere film pornografici. L'attività investigativa avviata il 31 maggio, subito dopo la querela presentata, subito disvelato uno scenario terribile. Quel pomeriggio la sedicenne giocava in cortile con il cane, quando una vicina di casa notò che in piedi davanti a lei un anziano si stava concedendo atti osceni. Avvisata subito la mamma della minorenne, che è scoppiata in lacrime, raccontato delle violenze iniziate più di un anno prima. Dal racconto della vittima, supportato da foto, video e testimonianze di altri vicini di casa, è emerso che tra i luoghi dei presunti stupri ci sarebbe anche retrobottega del negozio gestito da uno dei due arrestati e una cabina della spiaggia barese di San Francesco, nella quale i due si sarebbero introdotti per abusare indisturbati della sedicenne nel periodo di chiusura della struttura balneare. Alle continue richieste di aiuto della ragazzina, stando a quanto raccontato al magistrato dalla stessa, i due le tappavano la bocca, la immobilizzavano per violentarla a turno, minacciandola di morte per farla tacere. Ricostruiti così, una serie di turpi e deprecabili violenze dei due uomini nei confronti della minorenne, ripetuti in maniera così sistematica da aver compromesso l'integrità, con gravi ripercussioni sia dal punto di vista fisico e psicologico della sedicenne. Videocassette, DVD di film pornografici, preservativi, creme lubrificanti e altri prodotti per uso sessuale, il materiale trovato nascosto nelle armadi, chiusi a chiave delle abitazioni dei due arrestati, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.